E' in conclusione al tuo premio speciale, il premio speciale che è un premio manufatto. Il mio progetto nasce da utilizzatore, a tutte le state, o a Tepuglia, a Mancanza, e la mia scelta dell'olio fulgese è per tutti gli anni o l'olio fulgese. Quindi in termini si torna a casa, non con un sacro bambino con delle tasse di tante bottiglie, ma si torna a casa con una frutta latta di metallo e poi quando torno a casa dobbiamo andare a provasare le bottiglie di me, ho scorto tutta la cucina, lavandina e molto qua. Molto simpatico perché ti ricordi le vacanze, molto poco simpatico, anche se diventa nascosto per tutto l'anno, spero che si possa tornare. A fronte di questa esperienza anche, dal punto di vista gastronomica eccezionale, dal punto di vista funzionale disastrosa, nel 2023, i miei genitori magari negli anni 60 scendevano giù, tornando giù con delle bottigioni, con dei fiaschi e queste cose. Nel 2023 forse, quando ho pensato a questo progetto, le cose possono essere fatte più belle e funzionale più favore. D'altra parte si cominciava a vedere su internet queste decking box, che avevano queste confezioni di serie dei fili, per trasportare in maniera più ecologica e più economica le grosse quantità, che però rispetto al contenuto, che secondo me è una sostanza arrivata e di peggio, comunicavano invece una sorta di, senza prendere nessuno insomma, il tavernello, sembrava distribuire il tavernello che fa le case. Io credo che invece la dignità e il prezzo e la qualità dell'olio, quindi sembrava forse invece cebrata anche quando se ne fa una scorsa fondata. che quindi potesse essere la possibilità di fare una leva commerciale, funzionale, del design del contenitore che possa promuovere sia la funzionalità dell'oggetto, ma anche l'iconicità del contenitore. Io credo che, o ci sia in Italia delle differenze delle condizioni, dei gusti dell'olio, è stato quasi sempre affiancato una condizione di ceramica. Per me, diciamo, la scelta più facile, essendo consumatore di olio pulchese, è stata quella di prendere una ceramica di ortaglia, una ceramica di maniera di tetto, e scontando già quella che loro fanno, che sono questi fumi, che hanno confezioni di ceramica molto grandi, che sono solo gioccolativi, e deve rifare un contenitore per una bagging box, che uno possa mettere e lucidare dentro il contenitore principale, far uscire il rubimento del bagging box, e poi avere una odiera invece che a tavola comune e pratica, da poter vedere il contenitore con il contenitore principale. Questo fa sì che sia la fidelizzazione al prodotto, il consumatore finale può essere consolidata, può essere più facilmente vendibile, non la secolocantiglia, ma un contenitore più ampio, quindi vendere più prodotto anche al diete finale, e poi trasmette le tonicità di quel tipo di gusto, di quel tipo di olio, che può essere vincolato attraverso questa immagine tradizionale, caratteristica proprio dell'uomo di convenienza. Io ho fatto con valutazione di ortaglia, ma mi posso immaginare che invece, non lo so, con le ceramiche di albissola si possa fare una cosa simile per l'olio di dura, e così via per tutte le singole posizioni locali. Perché noi parliamo dell'olio spagnolo, e per noi l'olio spagnolo è tutto uguale. Quando parliamo di olio italiano, parliamo di differenze abissarie, nella degustazione, nei conflumi e nelle cose. Quindi io credo che questa moltiplicità di tradizioni deve essere comunicata anche, oltre che visivamente con i contenitori, ma anche con i contenitori che possono raccontare le differenze delle terre in cui questi olio tengono prodotti. Finissimo. Grazie per questa segnalità. Ecco, grazie a tutti. Grazie.